L'obesità è una patologia vera e propria. Purtroppo non tutti, né medici né persone con obesità, la reputano tale. Pensiamo un medico su cinque non reputa l'obesità una patologia e non ne discute con il proprio paziente. È una patologia complessa e molto, per definizione, cronica. Quindi fondamentale è l'approccio multidisciplinare, dove occorre fondamentalmente gestire le complicanze mediche se ci sono, ma fondamentalmente prevenirle, prevenirle attraverso uno stile di vita corretto, attraverso una corretta alimentazione, fare attività fisica, smettere di fumare, non abusare con l'alcol. Quando c'è necessità di farsi aiutare da un gruppo di esperti, tra cui fondamentale la figura del dietista e dello psicoterapeuta, perché spesso l'obesità ha anche, sottende un disturbo del comportamento alimentare. Quindi è fondamentale riuscire ad utilizzare un approccio psicoterapeutico per risolvere e gestire i comportamenti che hanno portato all'instaurarsi dell'obesità. È fondamentale avere uno stile di vita corretto, cioè muoversi di più durante il giorno, prendere le scale, parcheggiare più lontano e fare attività fisica formale, cosiddetta andare in palestro, fare ballo, camminata a passo svelto. Curare la mente perché ci sono spesso molti pensieri, che ne chiamiamo pensieri sabotanti, che vanno poi a far fallire ogni tipo di approccio alla perdita di peso e cercare di trovare nuove strategie per la risoluzione dei problemi.